Sai come fare una bella polenta liscia e senza grumi? Seguimi e lo scoprirai! Bisogna salare l'acqua prima che questa bolla, aggiungere un goccino di olio e versare la farina sempre prima che l'acqua bolla, stemperandola per bene con una frusta. La dose della farina di solito è di 1 a 4 rispetto all'acqua. Basta cuocerla poi per circa 50 minuti e il risultato, eccolo qua. Questa per me è la consistenza perfetta per essere poi versata come accompagnamento a qualche stracotto, brasato e perché no? Anche a delle belle seppie in umido. Ti è piaciuto anche questo trucco? E allora seguimi, così ne scoprirai altri. Grazie a tutti!